Nicola Zingaretti conquista Napoli e vince le primarie del PD in Campania. Dai dati dei 119 seggi di Napoli e provincia, il governatore del Lazio incassa il 52% dei voti, con lo sfidante Maurizio Martina che viaggia intorno allo 38% e Roberto Giacchetti all'8%. Una netta affermazione invece per lei ha annunziato a sindaco di Poggio Marino, che alle primarie del PD per la segreteria regionale del partito ha superato gli altri due contendenti, Umberto del Basso De Caro e Armida Filippelli. Ha vinto l'uomo sul quale ha puntato il governatore Vincenzo De Luca, ma annunziata non è espressione diretta del neosegretario nazionale Zingaretti. Il sindaco di Poggio Marino infatti faceva riferimento alla mozione Martina, ma ha intercettato in Campania anche i voti delle altre componenti politiche interne ai Demmo. Sono stati 55.000 votanti, dato che ha eguagliato le ultime primarie del 2017, quando tra Napoli e provincia si recarono in 56.000 alle urne. Straordinario il valore della partecipazione alle primarie, ha commentato De Luca, che segnala un cambiamento generale di clima nel nostro paese. Si comincia a voltare pagina, ha concluso, e si crea la possibilità di una svolta in Italia.